Venerdì 9 agosto sul lungomare d'Alba Adriatica di scena il carnevale edizione 2019 parliamo però delle ordinanze che l'amministrazione comunale ha emanato in merito a sicurezza e viabilità. Sì, venerdì 9 agosto si accendono le luci del carnevale per cui verrà chiuso al traffico tutto il lungomare che va da via Sonzo a via Turati e comunque fino alla Bambinopoli e tutte le vie che accedono al lungomare. Questo per quanto riguarda il giorno del 9 agosto dalle ore 14 a fine manifestazione. Poi la festa continuerà il giorno dopo perché sabato 10 agosto c'è un evento nel tratto nord del lungomare per cui il pomeriggio fino a Nottefonda sarà chiuso anche il tratto che va da via Le Mazzini a via Battisti quindi per tutta la serata del 10 agosto. Parliamo anche delle ordinanze in merito al consumo di alcol o comunque sulla sicurezza. Quali sono i provvedimenti che avete preso? Sì, anche quest'anno è vietata la vendita da asporto di bevande in vetro e lattine quindi potranno essere consumati soltanto nei locali. Poi per quanto riguarda invece la musica si è prevista una deroga fino alle 3 del mattino del 10 agosto quindi per tutta la durata del carnevale. Per quello che riguarda invece l'utilizzo degli uomini ricordiamo la polizia municipale ma anche il posto di polizia ci saranno le condizioni di sicurezza per assistere a un evento che racchiude una moltitudine di persone? Sì esattamente sono stati previsti quindi tutti i vari controlli quindi la sicurezza prevista nei barchi e per tutta la durata dell'evento quindi ci sarà il supporto della polizia di stato, dei carabinieri, della vigilanza privata, dei vigili e quindi tutte le forze saranno in campo per rendere lieta questa serata a tutti. Grazie Grazie Grazie